Ve l'ho accennato la scorsa notte su Instagram, adesso ne parliamo in maniera un po' più approfondita Sì, Remedy ha ufficializzato i remake di Max Payne 1 e 2 realizzati in collaborazione con Rockstar che da quanto è emerso finanzierà il progetto più che collaborare al suo sviluppo È una notizia molto molto interessante Perché Primo ci regala una nuova prospettiva di un grande ritorno fatto come si deve Perché parola chiave, remake, non remaster Non sarà una versione in stile GTA Trilogy, se è quello a cui stavate pensando Sarà un remake vero e proprio, saranno due remake veri e propri realizzati per PC e Next Gen Quindi PC, PS5, Xbox Series S e Series X Niente all gen Purtroppo per fortuna, mi viene da dire per fortuna Per un progetto che sarà basato sul Northlight Engine Cioè l'engine proprietario di Remedy Insomma, una bellissima notizia La grande curiosità riguarda chiaramente la piega che prenderà lo sviluppo Perché si tratta di due pietre miliari del settore Due titoli amatissimi, popolarissimi, su cui non si può sbagliare niente Che dovranno essere ricostruiti, riproposti, reinterpretati, riletti in chiave moderna Per essere ugualmente d'impatto Senza però far perdere l'essenza, l'anima della produzione originale Per cui non è un'ambizione leggera Non è un progetto così banale È un progetto molto impegnativo Forse più di quanto non sarebbe stata una nuova IP Per certi versi Perché qui hai letteralmente i nostalgici, gli irriducibili qua Quindi bisognerà vedere che cosa faranno Però io sono abbastanza sereno Remedy ci ha abituato a livelli molto alti in tutte le sue produzioni Anche quelle meno popolari, meno amate Se ricordate anche il vecchio Quantum Break Titolo controverso, chiacchieratissimo Non amato dai più Però comunque era un progetto di un certo livello A livello di qualità produttiva intendo Adesso la prospettiva di rivedere i primi video di Max Payne Bullet Time mi incuriosisce tantissimo Vedere il modo in cui lo riproporranno Perché chiaramente non lo puoi rifare uguale Dovranno inventarsi qualcosa di nuovo Se la storia rimarrà esattamente la stessa O se ci saranno delle variazioni Insomma, tante tante cose che possono succedere Che succederanno e che varrà la pena di approfondire Di studiare, di raccontare Su cui chiacchierare L'unica incognita Ve la butto lì Riguarda proprio il fatto che Remedy debba gestire Questo duplice progetto in questo momento Perché dico in questo momento? Perché in questo momento ci sarebbe anche un certo Lannuake 2 in sviluppo E Remedy non è un'azienda Così grossa Tenete presente che adesso Dalle informazioni pubbliche Remedy dovrebbe avere circa Tra i due e i trecento dipendenti Chiaro L'abbracciare un progetto così importante Come i remake di Max Payne Obblicherà la compagnia ad allargarsi Magari a fare un po' di outsourcing Magari a ricorrere proprio al supporto Concreto Oltre che finanziario Di Rockstar In questo senso Però Non parliamo di un'azienda Così Così Grande Rispetto ad altre che hanno magari Doppio, triplo Il quadruplo Della forza lavoro Quindi Bisognerà capire Come gestiranno parallelamente Due progetti Quando Concretamente Usciranno Due progetti Se magari Lannuake subirà Dei ritardi Nel suo sviluppo Per far uscire Prima Max Payne Perché penso sinceramente Che Vista la Caratteristica O meglio Le peculiarità Dei due progetti Forse Potremmo vedere Prima Max Payne 1 e 2 remake Piuttosto che Lannuake 2 Però Io sto facendo Chiaramente solo Delle supposizioni Certo è che se ne dovrà parlare Certo è che ci dovranno far vedere qualcosa Ma per adesso Sappiate che non ci sono date Neanche indicative Per questo progetto Sono state dichiarate Solo ed esclusivamente Le piattaforme Di riferimento Detto ciò Sì Lo so Cosa state pensando Un altro remake Lo so Non è una notizia Che a tanti fa piacere Però Cerchiamo anche di Fare un po' Una divisione Fra i progetti Così Acchiappasoldi Fatti tanto per E i progetti Con un certo Significato dietro Max Payne 1 e 2 È un qualcosa Che è rimasto Nel cuore degli appassionati Sono due progetti Non proprio recentissimi In cui il remake Ha un senso Vero e proprio Esattamente come lo avrebbe Uno di Metal Gear Intendiamoci Quindi non riesco Ad accogliere Questa notizia A mezza bocca Con un po' Di diffidenza Con un po' Di fastidio Perché sì Ok È l'ennesimo remake Ma quando Si tratta Di opere Così importanti Di produzioni Così amate L'unica paura È che possano Stravolgerla Ma con remedi Questa paura È abbastanza ridotta Almeno da parte mia Quindi sì È un periodo In cui stanno Un pochino Sempre Guardando al futuro Ma con un occhio fisso Verso il passato Per evitare Di fare Investimenti A rischio Troppo elevato Perché è chiaro Se tu investi Un tot di soldi Su un remake Di Alan Wake O in questo caso Di Max Payne Sai già Che ti andrà bene Ma in senso assoluto Capisco Che possa dispiacere Però Accogliamo queste cose Con un po' Di sorriso Con un po' Di entusiasmo Perché non parliamo Di un remake Anzi Di due Remake Di prodotti Così Trascurabili Ma di due Opere Che magari Tanti potrebbero Non aver mai giocato E che potrebbero Riscoprire In una chiave Speriamo Meravigliosa Adesso Che si riproporranno Al grande pubblico Per cui ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Curiosissimo Di sentire un po' Loco Quindi Conoscendovi Credo che sarete La maggior parte Di voi Saranno contenti Però credo che ci sarà Anche qualcuno Un po' deluso Fatemi sapere Parliamone ovviamente Appena ci dovranno Cioè appena ci dovessero Essere novità Screen Immagini Video E ne parleremo Magari anche su extrafalco Con delle reaction Insomma Però appunto Ne parleremo Quella sicura Grazie a tutti Grazie a tutti.